Amici di oltre il novantesimo, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, adesso video sulla top 11 della venticinquesima giornata. Iniziamo subito. Modulo 343, in porto messo Andanovic. Una giornata dove i portieri non hanno fatto parate spettacolari né sono stati migliori in campo, ma ha deciso di premiare il portiere dell'Inter per l'intervento decisivo su Torosidis a pochi minuti dalla fine che ha salvato il culo ai nerazzurri permettendo loro di portare a casa la vittoria. Poi difesa 3 con Stendardo, Pisacane e Conti. Stendardo, ottima prestazione per lui come tutto il Pescara nella vittoria per 5-0 contro il Genoa. Pisacane uno dei migliori in campo nella partita tra Sampdor e Cagliari. Conti invece che ormai da 2-3 settimane si conferma fisso nella top 11. ha segnato il gol che ha permesso ai Bergamaschi di vincere contro il Crotone e Conti che si sta confermando uno dei giocatori rivelazione di questa stagione. Poi centrocampo a 4 con Amsic, Nainggolan, Kucke e Ben Ali. Amsic gol nella partita tra Chievo e Napoli. Poi solita sua grande prestazione come ci ha abituato a fare. Nainggolan, anche lui, grandissima prestazione nella vittoria della Roma per 4-1 sul Torino dove ha corso e lottato tantissimo come suo solito. Oltre che a segnare il gol della definitiva 4-1. Poi ho messo Kucke, Kucke che ha aperto le danze nella partita tra Milan e Fiorentina segnando il gol del momentaneo 1-0. E poi come ultimo centrocampista ho messo Ben Ali. Ben Ali che da qualche domenica si sta confermando uno dei migliori in campo del Pescara. Un giocatore che a me personalmente piace. Nell'ultima partita ha segnato e ha fornito una grande prestazione. Quindi ho deciso di metterlo in questa top 11. In attacco invece ho messo Di Bala, De Frel e Caprari. Di Bala che nella partita contro il Palermo ha fatto un assist, un gol e una magia. La magia sarebbe il secondo gol. Queste sono state le parole di Adani a fine partita. Comunque ottima prestazione per lui dove ha segnato una doppietta e ha fornito un assist per il gol di Higuain. Poi ho messo De Frel come punta centrale. De Frel che è subentrato nel secondo tempo nella partita tra Odinese e Sassuolo. L'ha praticamente capovolta perché con la sua doppietta i neroverdi hanno ottenuto i tre punti. Poi ho messo Caprari. Caprari ottima la sua prestazione nella vittoria del Pescara per 5-0 contro il Genoa. La cura Zeman ha fatto effetto. Tra l'altro il Boemo lo conosce perché l'aveva già allenato ai tempi della sua prima esperienza del Pescara dove c'erano Insigne, Immobile e Verratti. Vedremo se questa volta Caprari riuscirà a esplodere definitivamente. Io credo di sì perché Zeman è un maestro con i giocatori giovani quindi secondo me ci sarà un buon futuro per lui. Non è un fuori classe però secondo me dopo la sua esperienza a Pescara lo vedremo stabilmente in Serie A. Non in grandissime squadre però secondo me giocherà stabilmente in Serie A. Va bene ragazzi questa era la top 11 della 25esima giornata. Fatemi un po' sapere come la pensate. Iscrivetevi al canale YouTube, alla pagina Facebook, lasciate un commento, lasciate un mi piace, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!